Primo incontro a Roma nell'ufficio di Claudio Lotito al Senato dei vertici molisani del centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali, una riunione interlocutoria, non poteva essere diversamente, alla quale hanno partecipato oltre al coordinatore regionale di Forza Italia, Lotito, Filoteo Di Sandro, di Fratelli d'Italia, Michele Marone della Lega, Teresio Di Pietro, Udc e Vincenzo Niro Popolari. Al centro del confronto la necessità di individuare le linee programmatiche, una prerogativa che è stato ribadito spetta ai partiti, e quindi la scelta di un candidato presidente che possa rappresentare l'intera coalizione. Obiettivo sottoscrivere con i molisani un patto che si basi su un programma solido, credibile e concreto e che al tempo stesso sia aperto al contributo dei cittadini. Un progetto politico di ampio respiro che coinvolga le realtà civiche che intendono mettere a disposizione della regione la loro esperienza per rilanciarne le potenzialità attraverso un nuovo piano di sviluppo regionale. Il primo passo è stato compiuto, il confronto tra le forze politiche della coalizione è partito. La meta da raggiungere è una candidatura condivisa alla presidenza della giunta regionale.